Oggi ho tirato fuori l'ultima bottiglia di questa serie, ormai purtroppo fuori produzione di Micheller, stiamo parlando della Vanilla Shake. La Vanilla Shake è una birra prodotta da Micheller, birrificio danese, si tratta di una Imperial Stout, infatti fa ben 13 gradi. Il costo di questa bottiglia acquistata online è, se non erro, nel 2016, avevo acquistato qualche bottiglia e questa purtroppo è l'ultima, costo 8,90€ per la bottiglia da 33cl, insomma non è proprio economica questa birra, bicchiere suggerito direi un pallone, uno snifter e non si tratta di un primo assaggio. Allora, come dicevo, la bottiglia è l'ultima che mi è rimasta, avevo acquistato un paio di bottiglie nel 2006, fino al 2016 o inizio 2017, se non erro, da allora questa, la Vanilla Shake, credo sia ancora fuori produzione, o comunque non la trovo più nei beer shop italiani perlomeno. Fa parte la Vanilla Shake di una serie molto interessante di Micheller. Allora, una premessa su Micheller. Micheller è nato come birrificio fantasma o birfirm, che dir si voglia, danese. La storia è interessantissima perché uno dei due soci, appunto Micheller, era un professore di matematica che poi ha abbandonato la carriera, appunto, di insegnante per dedicarsi a trasformare la passione dell'home brewing, quindi della birra fatta in casa in un lavoro vero e proprio, con due soci, poi, cioè erano due soci, poi uno se n'è andato, comunque ora Micheller è uno dei nomi un po' più in voga in questi ultimi anni. Storia curiosa che due suoi allievi alla scuola dei superiori, con cui lui praticamente condivideva anche in parte la passione dell'home brewing, hanno fondato qualche anno dopo un altro birrificio danese famosissimo, che è Toll, con cui poi ci sono state anche delle collaborazioni. Fortunatamente che ora Micheller ha il proprio impianto, questa birra qui però ancora veniva prodotta in un impianto in Norvegia, ma appunto fa parte, dicevo, di tutta una linea che si chiama Beer Geek Breakfast, di birre pensate da Micheller per la colazione dei beer geek, quindi degli appassionati, geek è un po' un sinonimo di nerd, diciamo così, quindi di quegli appassionati un po' estremisti quasi, che cercano sempre il prodotto nuovo, comunque molto molto appunto curiosi e appassionati di tutto ciò che è il mondo delle birre. Quindi questa linea pensata proprio per far far colazione queste tipologie di persone, ed erano tutte stout, comunque milk stout, contenenti il lattosio. Tra l'altro esiste anche la linea più recente Beer Geek Brunch e Beer Geek Dessert, sempre per appunto stare su questo gioco. Di questa linea Beer Geek Breakfast, questa è la più alcolica, è la Vanilla Shake, appunto una versione un po' più potenziata, un po' più spinta rispetto alle altre birre che aveva sempre Micheller su questa linea, infatti appunto arriva a 13 gradi. Si tratta di una Imperial Stout, allora è un Imperial Milk Hot Milk Stout, se vogliamo dirla tutta, perché è Imperial, perché appunto va ben oltre la gradazione classica per questo stile delle stout, quindi Imperial. È una Milk Stout perché contiene il lattosio, è una Hot Milk Stout perché contiene anche dell'avena oltre al malto d'orzo. Inoltre c'è anche appunto il del caffè dentro della vaniglia. Tra l'altro il caffè viene aggiunto, allora piccola promessa, solitamente i sentori caffettosi delle stout vengono dati solo dalla tostatura dell'orzo, quindi parte dei malti utilizzati sono malti speciali, quindi con orzo tostato. Qui viene anche aggiunto del caffè e della vaniglia. Caffè e vaniglia vengono però aggiunti in questo caso con la, credo si chiami French Press, che è una sorta di mocha che si usa un po' in Nord Europa e in America. Allora, non è una vera e propria mocha nel senso che non va direttamente sul fuoco e soprattutto non va in pressione, a differenza della mocha, ma è un cilindro all'interno del quale si versa l'acqua calda, dopodiché c'è uno stantuffo, si versa quindi anche il materiale da infondere, il materiale solido, e dopodiché lo stantuffo serve a pressare e a separare la parte liquida appunto da quella solida. Quindi serve appunto per fare gli infusi principalmente. Ci si può fare quindi il caffè infuso in questo modo, quindi non in pressione come nella mocha con il vapore e acqua che passa attraverso, ma appunto mettendo direttamente la parte solida immersa nell'acqua calda, come si fa con il tè o con altri infusi. In questo modo quindi si fa un'infusione sia per il caffè sia per la vaniglia e poi si butta tutto assieme alla stout. È una birra molto molto complessa, ho dei bellissimi ricordi su questa birra, ma ho bevuto una sola bottiglia e più di due anni fa, credo sia un paio di anni fa, quindi il mio ricordo potrebbe essere un po' sfalsato. Ho tenuto questa bottiglia perché essendo l'ultima ed essendo fuori produzione ormai questa linea, ho detto vabbè la terrò per qualche evento particolare, mi sono detto la berrò al prossimo compleanno e poi non l'ho bevuta al prossimo Natale e non l'ho bevuta. L'ultima cosa che mi sono detto è la berrò a fine trasloco, ho recentemente traslocato e non l'ho ancora bevuta, quindi oggi sono andato a prenderla per guardare la data di scadenza e vedere se era il caso forse di berla. Bella sorpresa perché la data di scadenza è il 10 febbraio del 2026, quindi è stata messa una data davvero davvero di scadenza molto molto lunga e che mi fa pensare che sia uno dei prodotti che piace a me insomma, a differenza delle ipa che vanno consumate in tre mesi. Ho parlato tantissimo, quindi direi di aprirla. Ah, non ho detto niente in effetti sull'estetica della bottiglia, il tappo è completamente neutro, semplicemente di alluminio, c'è solo la data di scadenza e il lotto. Le bottiglie di Michele erano tutte delle grafiche molto diverse tra loro, in questo caso c'è una doppia etichetta con il font con cui è scritto Michele che è sempre uguale ed è un font che ricorda un po' la macchina da scrivere, comunque un sans serif molto molto tranquillo. Viene riportata l'immagine appunto di questa French Press, con lo stantuffo e tutto quanto. Il bicchiere sembra proprio un bicchiere da frappè, con soltanto di panna e cannuccia. Vanilla shake, hot milk stout, bread with coffee and vanilla. Sul retro c'è il logo di Mick Keller, un po' di informazioni, non è scritto nulla in italiano perché appunto questa birra è importata. Ci sono gli ingredienti appunto che dicevo prima, non è indicata la temperatura di servizio. Questa è una cosa che mi ha fatto già notare qualcuno sotto a dei video precedenti, non indico mai in effetti la temperatura di servizio. Allora è piuttosto variabile la temperatura di servizio indicata e un po' è relativa al gusto personale. Diciamo che una birra troppo fredda copre molti, cioè si coprono alcuni sentori. Tecnicamente per esempio le competizioni, nelle competizioni le birre vengono sempre versate in una temperatura attorno ai 12 gradi, a volte tra i 12 e 14 o tra i 10 e 12 gradi. Può sembrare una temperatura un po' elevata rispetto ai 4 gradi o 6 gradi canonici del frigorifero di casa, ma è la temperatura migliore per essere sicuri che si possa riuscire a percepire tutto il bucchio aromatico senza che si vada a perdere. Tenete sempre conto quando bevete una birra, soprattutto una birra così alcolica, che all'incrementare della temperatura sentirete un po' di più l'alcol. Mentre invece una bassa temperatura vi aiuta nel momento della bevuta a sentire meno l'alcol. Però come mi è già capitato di dire anche in qualche altro video, secondo me, se state guardando questo video, probabilmente non state bevendo la birra solo per l'alcol e non è l'etanolo che cercate nella birra, ma l'esperienza in sé. Quindi immagino che sarete tutti dei bevitori molto molto accorti, molto responsabili. Comunque versiamo questa birra. Guarda, c'è tantissimo fondo, c'è proprio del fondo solido. In effetti questo non me l'aspettavo, ma è una bella occasione per parlare anche di ciò che si può formare sul fondo. In questo caso c'è proprio un'intera formazione piuttosto densa all'interno della bottiglia, data dal fatto che questa bottiglia è rimasta in effetti due anni ferma. Quindi si è fatto un grandissimo, un grandissimo deposito sul fondo. Stupidamente non ho pensato di portarmi un bicchierino qui e cercare di isolare la parte solida. La parte solida può essere formata da tante cose diverse. Può essere un fondo di lievito. In questo caso c'è dentro talmente tanta roba che potrebbe essere anche o parte del lattosio o altre componenti. Viene aggiunto anche altro zucchero, quindi potrebbe essersi separata in questo modo. Agitare la birra può non sempre essere la soluzione migliore, per il semplice fatto che è in pressione ovviamente e si potrebbe comunque desaturare e perdere qualcosa. L'ideale sarebbe stato isolare la parte solida sul fondo semplicemente versandola un po' più piano e separando poi la cosa. Errore mio, non l'ho fatto, però andrebbe consumata in questo modo. Sarebbe meglio consumarla in quel modo. Fatò sa che la birra è stata versata, di schiuma ce n'era poca e se n'è già andata quasi tutta. La poca schiuma rimasta è molto fine, di un bel, direi, beige, di un crema che tende un po' al marrone. Posso provare a fargene formare un po', ma ho paura di reagitare ancora quel fondo che adesso si sarà già depositando. La birra di per sé è nera, praticamente nera. Basta, non ci sono altre parole per descrivere, il colore è davvero impenetrabile. Al naso arriva già qualcosa da qui, ma vediamo di fare un'analisi un po' più precisa. Allora, al naso arriva diverse cose. Direi che subito c'è questo profumo appunto di vaniglia che si sente. Si sente un profumo che a me ricorda proprio le barrette di cioccolato bianco. Non so se avete presente la famosa marca col delfino, quando aprite la barretta, ecco, quel profumo o quell'odore lì, praticamente, mi sembra proprio di sentire qualcosa di eccessivamente o eccezionalmente, dipende dai punti di vista, dolce. Appunto, ripeto sempre, penso a qualcosa di dolce perché mi ricorda il cioccolato bianco. Ovviamente non posso sentire il dolce con il naso, lo sentirò forse, probabilmente, dopo in bocca. C'è anche dell'etilico. Si sente un po' di alcol, sì, si sente. Non è invadente, non è eccessivo, si sente. Non si sente, invece, la cosa mi sorprende, non si sente caffè praticamente. O comunque mi sembra... non so se mi... a me sembra di non sentirlo, però pensando che è una stout forse mi autosuggestiono, ma non mi sembra di sentire forte profumo di caffè. O almeno mi aspettavo un profumo molto più intenso, sapendo poi che non solo c'è orzo tossato tipico delle South, ma anche caffè aggiunto dopo. No, mi sembra... ma sembra di non usare un... un frappuccino da Starbucks o un prodotto un po' industriale di quel tipo. Vediamo in bocca. Allora, un mix di cose tutte assieme, bisogna cercare di fare un po' ordine. Cominciamo dall'inizio. Prima cosa, subito, dolcezza. Una dolcezza davvero, davvero intensa. Ancora qua, cioccolato, vaniglia tanto, tanto, proprio cioccolato dolce, cioccolato bianco e vaniglia. Arriva un pochino il caffè, non eccessivo, e arriva tantissimo, tantissimo. Arriva un pochino di alcol. Effettivamente per avere 13 gradi mi aspettavo si sentisse molto di più l'alcolico. In realtà tutto sommato si sente, ma come si sente in una birra da 8 gradi, come può essere una triple classica da 8 gradi. In realtà siamo a 13 gradi, insomma, un po' di più. C'è questo stacco dal dolce iniziale all'amaro del tostato, del caffè, che si sente. Il caffè è un po' persistente anche alla fine. In effetti, a fine bevuta, sul retroilfatto, arriva ancora tanto etilico e tanto caffè. È un po' strano questo stacco qui, perché è un po' squilibrato e mi sembra che si senta di più il dolce iniziale che l'amaro finale. È vero che svanisce abbastanza presto il dolce, ma non è molto equilibrata come birra. Diciamo che avevo un ricordo un po' differente di questa birra, che quando appunto la bevi la prima volta un paio di anni fa, l'altra bottiglia che avevo mi era sembrata davvero eccezionale. Resta una birra eccezionale, ma sarà che forse il fondo che si è fatto sarà la maturazione di due anni e qualcosa in frigorifero, insomma, me l'ha fatta un po' sembrare diversa, perlomeno. Ricordo che avevo era differente da quello che sto bevendo adesso. Una birra interessantissima, complessa. Altro dettaglio importante è la cremosità di questa birra, perché è davvero densa. Sembra, non dico che è masticabile, ma poco ci manca. Sembra tanto, in effetti, un frappè, visto che la birra punta ad essere consumata come colazione. Carbonazione è quasi nulla e appunto un corpo molto, molto denso. Che dire, un'ottima birra, resta sicuramente una tra le birre più interessanti che abbia assaggiato. Mi ricorda tantissimo, tantissimo, un Imperial Stout, di cui ora mi sfugge il nome, sempre la vaniglia che fece Tuol poco fa, in cui ho assaggiato quest'estate, ma di cui ora mi spiace ma mi sfugge il nome. Cerco la bottiglia poi per andare a recuperarla. Effettivamente la scuola un po' è quella. Questa appunto era la mia ultima bottiglia di Vanilla Shake. Spero torni a produrre questa linea. Mick Keller, intanto mi sorseggio quest'ultima bottiglia. Scal. Spero torni a produrre questa linea.